Facciamo il caciocavallo podolico fatto in casa. Adesso facciamo il caciocavallo podolico. Tagliamo a fette la cagliata. Muniamoci di abbondante acqua calda bollente. Una cucchiara di legno. Ed un mestolo. Mettiamo le fette in una vaschetta. Versiamo abbondante acqua calda nella cagliata. Ed incominciamo a lavorare in questo modo. Con il cucchiaio di legno da giù a su. Fino a raggiungere questa compattezza. E deve essere così, in questo modo filante. Arrivata a questa compattezza. Incominciamo a lavorare con il palmo della mano. Cominciamo a lavorare il caciocavallo in questo modo. Fatto il primo collo, sistemiamo la testa sopra. In questo modo. Ed ecco già il nostro caciocavallo. Mettiamo in acqua e sale e lasciamo stare per circa 15 minuti. Mettiamo il cordoncino al collo. In questo modo. E appendiamo. Il nostro caciocavallo è pronto. I nostri caciocavalli sono pronti per essere stagionati.